buongiorno qui topo gigio è bagnatissimo ma vabbè poi c'è lucio lì che fa la pappa affamatissimo anche lui qui c'è bianchina c'è cirino frodo muniz giove clara e luina adesso stanno uscendo tutti dalla struttura c'è merlinino e goldina e anei mamma mia quanto è piovuto speriamo in un po di tregua qui i lavori che abbiamo fatto a ruscello sono serviti hanno retto però dobbiamo ancora terminare quindi speriamo bene